ai tempi del coronavirus cambia tutto cambia anche il tradimento cambia il modo di approcciare quindi niente baci addirittura niente strette di mano neppure in chiesa quando si va a messa ma la notizia più clamorosa è quella che ha pubblicato qualche ora fa il quotidiano online affari italiani che si sono completamente svuotati i locali dove avvenivano gli scambi di coppia tutti paura del coronavirus insomma l'amore ai tempi del colera era uno dei libri e dei film più belli che tutti noi abbiamo apprezzato adesso forse ne andrebbe scritto un altro e andrebbe fatto un altro film sull'amore ai tempi del coronavirus ma proprio in questa circostanza molto particolare Huffington Post pubblica a livello internazionale un articolo molto bello scritto da Brittany Wrong in cui parla di quali sono i sei modi per tradire il coniuge senza neanche rendersene conto e i sei punti sono abbastanza interessanti il primo è la storia di sesso abbiamo bisogno di emozioni e quindi per trovare una nuova emozione andiamo a cercare una storia di sesso e quindi accontentare il nostro bisogno fisico poi c'è un secondo aspetto che è quello della cotta platonica diciamo quando uno dei due partner cerca un legame emotivo adulto va a cercare un'altra persona e naturalmente la cosa diventa totalmente cerebrale c'è poi un terzo modo per tradire il partner che è quello in assoluto più diffuso in questo periodo che è il cosiddetto flirt online cioè tradimento che non è legato alla storia come eravamo abituati a vedere nei film di una notte via una botta via adesso c'è proprio questa continua ricerca attraverso l'online quindi incontri proibiti attraverso le video chat messaggi tutto diventa particolarmente interessante c'è poi un quarto modo di tradire che è quello abbastanza diffuso tra i nostalgici cioè quello della nostalgia canaglia cioè torni all'idea di una vecchia storia d'amore vai a cercare un vecchio partner insomma e pensi di aver tenuto quella persona in frigo per tanto tempo e poi di tirarla fuori quando ti riserve poi ci sono le proprie passioni personali cioè si può tradire anche il partner fissandosi su delle cose per esempio io amo andare a fare le passeggiate in montagna amo che ne so la religione che mi prende totalmente oppure mi piace andare a caccia oppure devo giocare tutti i giorni a tennis ecco anche questa è una forma di traimento per il partner secondo gli esperti e l'ultimo aspetto è quello dei segreti economici e qui apriamo un nuovo capitolo sui tradimenti si può tradire anche il partner negando i soldi che uno guadagna e quindi non mettendolo nelle condizioni di poter condividere eventualmente una gioia economica insomma adesso che vi ho detto quali sono i sei segreti per non tradire il partner adesso che li conoscete questi segreti e questi modi agite di conseguenza